7 alla terza uguale 7 per 7 per 7 7 per 7 uguale 49 49 per 7 343 la potenza è per la pinza 3 per 3 io sono un 3 e io sono un 3 3 per 3 9 sono un 3 e io sono un 3 3 per 3 9 9 per 9 81 81 per 3 293 ciao noi siamo alle querce e facciamo 8 alla pinza 8 per 8 per 8 per 8 8 per 8 64 8 per 8 64 64 per 64 4.096 4.096 per 8 32.768 il risultato è 32.768 noi siamo il cielo giallo noi siamo della quinta pin oggi vorremmo mostrarvi la potenza 4 alla terza 4 per 4 fa 16 16 per 4 fa 64 64 per 4 più 4 è 150 256 per 4 uguale 1024 1024 per 4 uguale 4.096 il risultato è 4.096 ciao a tutti oggi vi mostreremo cosa fare le potenze in questa fase noi abbiamo che alla punta 2 per 2 per 2 per 2 per 2 2 per 2 4 4 per 2 8 8 per 2 16 16 per 2 32 questo è il risultato è 32 ora la sesta 4 per 4 per 4 per 4 per 4 per 4 per 4 4 per 4 per 4 per 8 per 4 per 8 per 8 per 6 per 6 per 4 per 8 per 8 per 8 per 8 per 거예요 7 x 7 49, 49 x 49, 2.401 x 7 fa 16.807